Ora c'è qui Togo, ma perché siamo per presentare tra poco un'altra categoria? Andiamo avanti, anzi adesso iniziamo a entrare nel pieno dell'Ivorno Music Awards, che poi non sono altro che una versione locale di Awards, e ci stiamo avvicinando al primo premio, che è Waco, perché qui c'è anche una regia e spacca, quindi Waco la manderà il test live, questo è il momento dove premeremo, i premi vengono decisi da una giuria, di cui faccio parte anch'io ed altri che non vi nomino, se no poi c'erete a cercare ci ammazzate, io sono grosso, io non ce lo fate, amo, e quindi noi andiamo a premiare, abbiamo deciso di premiare il gruppo tra una rosa di nomination, il gruppo che nell'anno, nella stagione 2016 ha fatto, secondo noi, concetto più bello. E quindi chiamiamo Eva, un applauso a Eva ragazzi perché è la prima volta che ci viene a dare una mano, non è semplice, sei benissimo. Quindi, The Music Awards, ok? The Music Awards, adesso, Best Live, premia, ovviamente ogni premio viene consegnato da, abbiamo scelto, personaggi che l'hanno vinto negli anni precedenti, quindi premia la categoria Best Live, Rolando Cappanera, grande Rolando, buona serata, sempre un piacere, lo sai, ovviamente vi possiamo garantire che in questo momento nemmeno Rolando sa chi c'è scritto qui dentro, perché nel nostro piccolo la cosa è ganza e funziona, perché per voi è un segreto, e quindi Rolando ti devi fare come fanno la Mediani, ok? Vaffo ce l'hai, il cappellino ce l'hai, sei credibile, sei credibile. Si vince il Best Live 2016, Vince, The Best Live 2016 Sinfonico Noh Luh Luh! Prove, bravi, bravissimi anche tutti gli altri, ovviamente. Ora, uno dei Sinfonico Noh Luh, l'un azzila, il Sinfonico Noh Luh. Il segreto è che chi vince poi fa queste scalette, Esatto, a continuare Anche con il primo gruppo dobbiamo ancora sistemare l'organizzazione Sinfonico Bruno è usato da questa mega scala Diciamo un grande gruppo che sta girando l'Italia Stavolta che ci vogliamo accogliere l'Italia Facendo concerti ovunque Bravissimi Eccoli qui Bravi, un applauso più forte ragazzi Anche di più Tutti gli altri gruppi, i Beatles e i Fatoni Clans Stanno girando l'Europa con le band Mandrake, i New Real Disaster, i Mesteriche Stanno sempre suonando di più Tutti i bravissimi Questo è il premio Best Live Best Live 2016 Non è che vanno lì No, so Allora, scenderete che c'è la foto di Vito Dal nostro Sebastiano Lavingo Tomangi Tomà Nostro fotonico Di cui vedete le foto sul nostro sito sempre E niente, qui ci vorrebbe, bisogna chiedere di qualcosa Eh già Ma ce l'ho di fatto Scusate Cosa, cosa, di qualcosa Allora, innanzitutto vorrei chiamare Steve Sperganzi che si è nascosto da questo premio Ma sto forte Daiane Sti sberguendo Ragazzo che ha fatto la storia del beat in Italia Grazie Sì, che è la regia di Simone Campanella Ha girato dalle vostre parti Sta girando Sarebbe il top Ora, non so se il potente Waco Io gli ho detto di recuperare materiale di tutti i gruppi Il nomination E Waco è pronto Quindi Mentre voi scendete Mandiamo anche il vostro video Ok? Quindi mandiamo al 3 giugno se posso dire E poi mandiamo a questo mercato Il Fortezza Ah, il Fortezza Vecchia quando è? 3 giugno Venerdì, 3 giugno Fortezza Vecchia Sorano, Sinfonia 1 Supportate la scena Grazie Sopportate noi Oh, entusiasmo bimbi, lo so Ieri è passato Quello che è successo ieri è passato Ok? Andate a fare voi la fotografia Il video dei Sinfoni con Nuovo Buon video Mentre si preparano I Grazie, grazie Nigel Junkies Fede Sinfoni con Nuovo, perfetto Lasciamo Si lascia il video Poi Un applauso Gravissimi Sinfoni con Nuovo In storia best live Eh? Tanta roba Un applauso, grazie Ti voglio la musica morta Grazie Grazie Grazie